Operazione antidroga siglata dalla squadra mobile della questura di Arezzo, sono state sequestrate 300 dosi di cocaina e arrestato un uomo. L'attenzione si era concentrata su di lui, residente all'estero ma domiciliato alla Terina, nell'Aretino, raggiungeva quotidianamente la città di Arezzo, dove, secondo gli inquirenti, spacciava la cocaina a bordo di un'auto presa a noleggio. A tarda sera, prima di tornare a casa, effettuava delle soste in una zona boschiva, nelle adiacenze dell'abitazione. Qui è stato notato dagli agenti mentre scavava in determinati punti, sotterrando ed estraendo alcuni involucri. Durante il blitz, la polizia ha scoperto che nel boschetto l'uomo nascondeva la droga per evitare il ritrovamento in casa, in caso di perquisizioni domiciliari. Lo spacciatore è stato quindi fermato nel momento in cui cedeva due dosi di cocaina e sottoposto a perquisizione personale con sé. Ne aveva altre 25. Gli agenti hanno perquisito l'area boschiva e qui hanno trovato tre involucri di vetro contenenti 300 dosi di cocaina e due bilancini di precisione. Per l'uomo si sono spalancate le porte della casa circondariale di Arezzo.